La lista Tahiti confluisce in Forza Italia, questa è la decisione di Massimo Tahiti che ha vincolato però l'ingresso in Forza Italia con il progetto legato alla riqualificazione del lungo Bisenzio. Quindi l'equazione è semplice, Tahiti con la sua lista arriva in Forza Italia, appoggerà il centrodestra, se il centrodestra dovesse vincere le elezioni diventerà centrale la riqualificazione dello stadio lungo Bisenzio. Questo è il discorso che abbiamo fatto fin dall'inizio, quando siamo partiti un gruppo di amici, avevamo detto che i nostri progetti se fossero stati condivisi da una delle due coalizioni più forti e che hanno più possibilità di vincere, noi avremmo scelto una di quelle due. Ho visto che Erika Mazzetti ma anche tutto il gruppo di Forza Italia ha mostrato attenzione al nostro progetto di stadio, ma non soltanto a quello dello stadio ma anche a quello del traffico e della sicurezza urbana e quindi a questo punto penso che i tempi siano maturi per fare una scelta importante e per permettere in questo caso al candidato sindaco Cenni di poter vincere questa elezione. Quindi se la coalizione di centrodestra dovesse vincere il progetto stadio tornerà centrale? Il progetto stadio non solo tornerà centrale ma ci dovrà essere l'impegno del candidato, oggi candidato, poi un domani speriamo sindaco Cenni, di portarlo avanti nel corso della legislatura. È ovviamente un progetto, mi diceva bene l'architetto Loggia, che si può portare avanti step by step, però a tutti gli effetti ci deve essere una garanzia e io penso che l'impegno del sindaco sia più di una garanzia di portarlo avanti e di terminarlo in tutta la legislatura. che ci aspetta con l'elezione del sindaco.